e si sia già guadagnata una bella nome a livello internazionale visto che quest'anno entra nella massima categoria quindi è senior da quest'anno direi che poi quest'anno anche noi ci divertiamo come che io ancora col marchigiano faccio un po' fatica doppio giro in accosciata e siamo pronti per commentare la parte acrobatica tempo tempo flick flick su cara carpio wow c'è poi il ritmo ragazzi ma guardate quanta velocità in questo esercizio quanto quanta carica salto avanti raccolto smezzato rondata flick flick su cara raccolto vabbè andiamo sempre più in alto la zamba e cambio la zamba e cambio con un giro forse appena appena rubacchiato sull'arrivo ma brava doppio giro impugnato questo niente da dire assolutamente nulla da dire doppio raccolto semplice così in terza diagonale piantato per terra ha richiamato l'applauso del pubblico che risponde in maniera bellissima doppio carpio di finale bravissima acrobatica super impeccabile direi che in ottima forma angelina brava boom finisce bravissima super esercizio grazie 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 grazie